ben tornati ben tornati sul canale buon mercoledì a tutti buon mercoledì di champions perché lo spettacolo della champions continua 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 anche stasera e quindi ci aggiorneremo comunque dopo le partite di forze non lo so perché stasera c'ho una cena quindi vediamo vediamo se riesco a fare i video altrimenti comunque domani mattina ma in ogni modo ci sarà da parlare perché due grandi partite bayern monaco arsenal dopo il 2 a 2 di londra e soprattutto senza nulla togliere a tedeschi inglesi e manchester city real madrid andata 3 a 3 al bernabeu e anche stasera ci aspettiamo scintille nel frattempo roba di campo in casa inter ma soprattutto roba da scrivania come direbbe josé murigno perché perché l'inter torna al lavoro oggi tutti a disposizione facendogli scongiuri in vista del derby di lunedì manca ancora insomma qualche qualche giorno ma non ci sono indisponibili al momento e non ci saranno squalificati visto che pavarra e lautaro torneranno dopo la squalifica scontata col cagliari e e invece mkhitaryan che era l'unico diffidato non è stato ammonito contro i sarri quindi ci sarà già si si sente un gran parlare si fa un gran parlare della della festa dei festeggiamenti di quello che accadrà e la consegna della coppa il nuovo inno e e il trofeo e il super concertone eccetera eccetera io dico solo chiaro che veramente manca ormai uno sputo no siamo questo termine che rende l'idea peraltro molto molto oxfordiano manca uno sputo alla vittoria dello scudetto dell'inter il ventesimo scudetto ma non è ancora conquistato e nel frattempo il milan domani dovrà concentrarsi nel ritorno nei quarti finali d'europa league tutt'altro che semplice anzi visto lo 0 a 1 dell'andata contro la roma ma è chiaro che invece l'inter si può concentrare totalmente sul derby di lunedì totalmente o in parte visto viste le tante chiacchiere che si fanno attorno alla alla società nera azzurra perché perché anche oggi c'è stato un rincarare la dose per quanto riguarda il futuro società che è successo è successo che in diverse fonti in particolare gazzetta dello sport e sole 24 ore hanno di fatto dato per chiuso possiamo dire quasi chiuso ma siamo veramente gli sgoccioli il negoziato per affinché si ven jang si tenga il club nero azzurro è sempre stata quella secondo appunto gazzetta dello sport in particolare ma anche il sole 24 è sempre stato quello l'obiettivo di su ning di jang di tenersi l'inter e pare ci sia riuscito abbia trovato pare appunto una soluzione quale quella di un nuovo interlocutore quindi restituire quanto dovuto a octri entro la data ormai lo sappiamo a memoria stabilita del 20 maggio e trovare un nuovo partner per un come lo descrive il sole 24 un rifinanziamento ponte che gli potrebbe in questo caso consentire di trattare successivamente a migliori condizioni la cessione di una quota azionale del club nero azzurro quindi per il sole 24 ore non si poi non si tratterebbe eventualmente di una cessione totale ma di una cessione di parte delle quote del club nero azzurro cosa scrive il sole 24 ore che l'identikit del finanziatore corrisponderebbe a quella di un investitore con sede a londra e tra i nomi che sono che sono circolati nelle ultime ore oltre a quelli di ares e six street partners c'è anche quello di eifin capital management società fondata da ex banker di goldman sachs e questa diciamo è un po la rivelazione che fa il sole 24 quindi identificare il nuovo partner non interlocutore per quanto riguarda un nuovo finanziamento a scadenza nuovamente triennale in questo triennio che cosa ci si aspetta almeno che cosa si aspetta di continuare a far lievitare il marchio il brand dell'inter di iniziare la costruzione in maniera fattiva del nuovo stadio non la ristrutturazione del meazza e poi di avere ulteriori introiti dove la nuova champions dal nuovo mondiale per club eventualmente da nuovi risultati sportivi con la conferma del management con la conferma del dello staff di inzaghi quindi inzaghi e andando a puntellare una rosa che già stata puntellata ve lo ricordo con gli ingressi a parametro zero di sielisi e di taremi tutto questo sempre sul solco dell'abbattimento dei costi sempre sul solco della sostenibilità sempre sul solco di una soprattutto continuità aziendale quindi non solo di campo ma anche dirigenziale che come dicevo ieri è la base di un progetto vincente la gazzetta lo sport va anche oltre per certi versi e dice in un certo qual modo che giang non solo così conferma ma rilancia perché ha una visione di un inter sempre più all'avanguardia di un inter sempre più in grado di imporsi in italia ma soprattutto a livello internazionale e proprio per questo ci tiene tantissimo il presidente a vincere lo scudetto di fronte al milano perché perché sarebbe l'ennesimo derby vinte quindi una grandissima una grandissima vetrina anche a livello internazionale perché chiaro che diventerebbe un evento già è un evento l'elettorato di questo scudetto perché corrisponde allo scudetto della seconda stella ormai lo sappiamo abbiamo parlato in ogni salsa e non a caso sono previste già sono in programma delle delle feste eccezionali la gazzetta parla di un mese e mezzo di di festa è una festa infinita no che dura una vita potremmo dire in qualche in qualche modo in più sarebbe una vittoria al ventesimo scudetto la seconda stella contro il milan e assumerebbe chiaramente i contorni di un'epopea no la partita perfetta la la vittoria perfetta e a quanto pare proprio giang ci tiene tantissimo non solo come tifoso non solo come dirigente ma soprattutto come 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 qualcuno che ha coniugato proprio le due anime questo è quello che racconta la 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 gazzetta lo sport poi noi chiediamo i tifosi chiaro che ci tengono tantissimo per una ragione di di rivalità ma la seconda stella resta resta proprio un qualcosa di storico quindi a prescindere dalla che si vinca con milan torino eccetera eccetera poi capisco il discorso che fa la gazzetta sulla su su questa aurea che si porta dietro questo derby io dico solo piano calma è un passo massima concentrazione perché se da un lato c'è l'inter che vuole entrare nella storia proprio dalla porta principale addirittura passando per un derby dall'altra ci sarà un milan che vorrà fare un dispetto diciamo così all'inter ma più che un dispetto un favore a se stesso perché guardando il derby del 22 aprile di lunedì prossimo dal lato rosso nero beh non sarebbe proprio il massimo chiudere una stagione almeno per quanto riguarda i confini nazionali vedendo i rivali trionfare proprio nella nostra cittadina e anticipando anticipando quella che è la seconda stella obiettivo chiaramente anche del milano perché vi ricordo che inter e milano sono appaiati a quella di 39 scudetti però il milano in più all'idea alla testa adesso che oggi che è vigilia alla partita con la roma quindi chiaro che potrebbe arrivare al derby in maniera sicuramente arriverà in maniera differente poi ci sarà anche da capire da valutare gli effetti positivi o negativi di un'eventuale o qualificazione o eliminazione dall'europa lì intanto la notizia di oggi del sole 24 ore è questa registriamo incassiamo l'ennesimo nome ifin capital management eventuale non interlocutore di steven già chissà percorso secondo ormai quasi tutti sembra tracciato c'è invece ancora ci sono ancora alcuni che parlano di di cessione più vicina di octri prenderebbe in mano il file inter dandolo direttamente a qualcun altro da quello e chiudo da quello che ho potuto raccogliere io in queste ultime ore effettivamente anche dal punto di vista della cessione non solo del rifinanziamento qualcosa si è mosso si è mosso in maniera da tempo maniera importante dal punto di vista del rifinanziamento senza octri ma si è mosso anche a livello di due diligence che non vuol dire nulla non vuol dire nulla perché chi sta avendo accesso ai libri contabili dell'inter li può anche chiudere in un secondo ringraziare e salutare quindi vediamo io per quello che può può contare restare concentrato sul campo eh almeno altri quanti sono cinque giorni dai un saluto